Su delega della procura distrettuale, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cotelare messa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di 23 persone, 6 delle quali in carcere e 17 agli arresti domiciliari, in quanto responsabili dell'appropriazione di denaro pubblico per un ammontare complessivo di oltre 14 milioni di euro, destinato alla gestione delle attività dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania. L'indagine, chiamata The Band, vede il coinvolgimento di 38 persone indagate a vario titolo per il reati di peculato continuato di ricettazione, riciclaggio e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini è un ente pubblico fondato nel 1951 dal comune della provincia di Catania con il compito di istruire gli allievi nei vari rami dell'arte musicale. Viene finanziato annualmente con contributi del comune, della città metropolitana e in minima parte con le rette dei frequentatori. L'attività predatoria, posta in essere da dipendenti infedeli dell'ente con la complicità di soggetti esterni all'Istituto, ha seriamente minato la solidità finanziaria dello stesso, sottraendo ingenti risorse economiche. Le continuate azioni di appropriazione di finanziamenti pubblici sono state realizzate dall'ottobre 2007 al febbraio 2016. Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata da alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e dall'attuale direttore amministrativo del Bellini e sono state orientate alla minuziosa ricostruzione di ogni passaggio di denaro avvenuto tra gli indagati. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il duplice sistema finalizzato dai sodali per trasformare l'ente pubblica in una sorta di bancomat senza limiti di prelievo per la soddisfazione anche delle più disparate esigenze personali, tra cui viaggi, gioielli e abbigliamento d'alta moda.